Prima di dare la parola, noi abbiamo dei compiti istituzionali da svolgere, tra cui c'è l'elezione degli organi dell'associazione. Quindi la proposta che facciamo come comitato uscente è quella di avere Roberto Morea sottoscritto come presidente, l'unico che si è alzato in piedi a Stefano, e avere un consiglio direttivo di quattro, scusate, Franco Ferrari, Nicoletta Pirotta, Elena Mazzoni e Riccardo Rifici. Siete d'accordo? Lo diamo per acclamazione e adesso. Fate queste piccole formalità, do la parola a Riccardo Rifici che è qui con noi e poi subito dopo a Nicoletta. Subito dopo Marga ci passerà la parola tra iscritti individuali e transporti. No, tu parli, passi nei tempi. Ciao a tutti. Io cercherò proprio di sintetizzare al massimo le cose che volevo dire. Io mi sono sempre occupato sia professionalmente che come cultura politica di ambiente. Dirò delle cose che forse sono un po' delle banalità, però è opportuno precisarle. Il recente rapporto preliminare delle PPC non dice molto di nuovo, però sostanzialmente afferma due cose. La prima è che i margini di incertezza sulle previsioni fatte precedentemente, perché i cambiamenti climatici si sono ridotti, cioè le previsioni sono molto più certe. La seconda cosa, dice molte altre, però la seconda cosa importante è che l'obiettivo che era fissato per il 2050, che era quello di non superare il grado e mezzo di aumento della temperatura, si raggiungerà molto prima, cioè negli anni 30, probabilmente all'inizio degli anni 30. Non è una banalità, perché questa cosa comporta che in alcune zone del pianeta, per esempio qui a Roma, nel mese di luglio si potranno avere temperature superiori ai 50 gradi. Questo comporta, oltre che problemi alla salute delle persone, comporta gravissimi problemi a tutta una serie di cose, prima di tutto l'agricoltura. A questi problemi questo modello di sviluppo non può rispondere, o perlomeno può rispondere a prezzo della giustizia sociale di miliardi di persone, sia nel mondo dei ricchi, sia nel mondo dei poveri. Queste cose ci portano, ci devono portare a fare questa riflessione. Cioè la risposta di per sé ecologista, senza una visione di classe anticapitalista, non può affrontare questo problema. Cioè se viene affrontato con lo schema della Green Economy, sì, si farà qualche miglioramento da qualche parte del mondo, ma appunto a spese di miliardi di altre persone. La soluzione, se possibile, è quella di ricostituire un movimento anticapitalista che ripensa al modello economico-sociale da mettere in piedi, che accolga in sé completamente questa analisi ecologista. Questo vuol dire che cos'è che può cambiare? Può cambiare intanto il modo con cui... Ciao, Caroline, come sei? Buono, come sei? Ok, quindi ho fatto il mio giorno off per settembre. Sì, è il microfono aperto. Stavo per dire questo, che l'acquisizione, cioè la fusione fra quello che è la storia dai movimenti anticapitalisti e quello che sono le acquisizioni dei movimenti ecologisti, partendo appunto dall'acquisizione che sono un modello diverso di società, cioè un modello che supri il sistema capitalista, il modello economico capitalista, questa acquisizione può portare intanto alla comprensione chiara dei problemi, ma poi può portare alla individuazione anche delle forme con cui attuare o mettere in moto i processi di trasformazione. Questi processi di trasformazione riguardano tutte le parti, possono riguardare, devono riguardare tutte le parti del mondo e tutte le parti della società, sia per quanto riguarda i modelli di produzione, sia per quanto riguarda i modelli di consumo, i modelli di commercio, sia per quanto riguarda i rapporti con le persone. Questo sforzo, che è quello che appunto dovrebbe portare nell'idea che un po' ci siamo fatti, su cui stiamo lavorando, alla costituzione di un soggetto, chiamiamolo rosso-verde, può avere proprio questo risultato, quella di una maggiore sintesi dell'analisi, sia dei modelli sociali, sia dei modelli economici, ma anche di una maggiore capacità di proporre un modello alternativo e di costruire un modello alternativo. E su questo tema penso che vada fatto il nostro sforzo, anche perché questo poi ci ricongiunge, e cerco di chiudere perché siamo in ritardo, a un altro tema, che è quello che riguarda l'internazionalismo e le questioni che riguardano la pace, perché è indubbio che il problema delle risorse causato anche dai cambiamenti climatici non fa altro che acquire gli scontri per l'appropriazione delle risorse. Per esempio, una delle risorse che noi ci dimentichiamo di considerare come tale sono i suoli. attualmente è già partita la guerra per accaparrarsi i suoli fertili. Rendersi conto di questo e quindi entrare nel meglio di questi temi vuol dire acquisire la coscienza, riacquisire quella che un tempo era la coscienza internazionalista. Vuol dire riacquisire quella capacità di colloquiare fra i popoli e non fra i governi, ma fra i popoli. E quindi questo è uno degli altri aspetti che ci porta a fare i massimi sforzi per costruire un soggetto, chiamiamolo rosso-verde, con caratteristiche internazionali. Sicuramente il punto da cui partire per noi è l'Europa, ma sicuramente non è da fermarsi lì. Cerco di, anzi, chiudo qui perché mi rendo conto che siamo in ritardo. Grazie mille. Riccardo, volevi fare un passaggio al volo? Riccardo, su questo tema del rosso-verde, dell'ecosocialismo, come trasformo, organizzeremo un seminario di approfondimento il 28 maggio, probabilmente qua in questa sede. Grazie. 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 Grazie.